Giovedì 11 ottobre 2018, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Anche oggi cercheremo di raccontarvi un protagonista della nostra città, persone che appunto giornalmente costruiscono quello che noi abbiamo voluto definire il racconto collettivo della nostra grande Milano. Lo sapete, ci abbiamo fatto anche un premio, i Milano Storytelling Awards, che proprio ieri sera hanno chiuso la loro prima fase di votazione e fra poco, a breve, fra pochissimi giorni vi daremo il trio, il trio dei candidati per ogni categoria, le nove categorie che compongono il premio, così che dal lunedì, dal lunedì 15 ottobre possiate di nuovo ritornare a votare e dirci definitivamente chi porterà a casa le nove statuette, chiamiamole le nove pezzi di Milano, perché vi ricordo sempre che il premio è un pezzo vero di Milano, è un tronco del bosco in città, quindi insomma un vero pezzo di Milano. E oggi parliamo di un altro bel pezzo di Milano, perché insomma è un progetto che nasce a Milano, che come tante di quelle cose che nascono a Milano poi si espande e contamina col bene tutta la nazione e anzi poi vedremo che va anche ben oltre, spesso e volentieri. Stiamo parlando del progetto ITACA e diamo il benvenuto a Beatrice Bergamasco. Buongiorno Beatrice, benvenuta con noi. Buongiorno, grazie. Grazie, grazie di averci. Progetto ITACA, associazione Progetto ITACA, un nome che insomma a Milano si conosce, si fa sentire spesso, però per i meno attenti diciamo, ricordiamo che cosa fa e come nasce Progetto ITACA. Allora Progetto ITACA nasce nel 1999, siamo un gruppo di volontari che promuovono programmi di informazione, prevenzione e supporto per persone affette da malattie della salute mentale e per le loro famiglie. E appunto siamo nati a Milano e da Milano, come avete ben detto, ci siamo sviluppati in tutta Italia con ormai 12 sedi sul territorio nazionale. Quanto tempo fa nasce e come nasce Progetto ITACA? Nasce appunto da un piccolo gruppo di volontari che si accorgono, volontari che sono sia familiari che persone diciamo sensibili al tema della salute mentale, che si accorgono che molto poco viene fatto per un problema tanto grande. Sappiamo, come dice l'Organizzazione Mondiale della Salute, che uno su quattro persone nel corso della sua vita passerà per problemi di salute mentale, questo è un numero molto grande, e anche che questi problemi nel 2030 la depressione sarà forse la maggiore causa di disabilità al mondo. Sono dei dati davvero allarmanti, sono dei dati allarmanti, ma una cosa, rispetto, cioè sono dati in aumento perché riusciamo a intercettare prima questo tipo di disabilità, perché siamo più bravi nell'accoggio o proprio perché aumentano realmente i casi, come dire, il famoso logorio della vita moderna come diceva tante anni fa qualcuno, in realtà adesso è diventato insostenibile? Eh beh, sono un po' le due cose, sono un po' le due cose, sicuramente i dati sono stati sottoestimati, la salute mentale è sempre un po' il fanalino di coda delle malattie, ci si investe molto poco, però c'è, diciamo, stato un movimento, parliamo da Basaglia 50 anni fa a oggi, dove tutti i tipi di disabilità e di diversità vengono incluse nella società, non più escluse, messe in posti manicomie. Questo perché? Perché la società le deve supportare anche per dei costi enormi, cioè se una persona viene esclusa dalla società al posto di essere inclusa e recuperata e con un'attenzione alla riabilitazione, questo è un costo enorme sociale ma anche economico e in più ci sono delle attenzioni. E diciamo che qui quindi entra in gioco proprio il progetto Itaca, che dico, cioè, benvenga appunto l'inclusione della società, cioè, credo che nessuno dica, cioè, benvenga Basaglia, non so come dire, però poi bisogna andare oltre, bisogna andare avanti, nel senso che ormai il mondo appunto si rivolge e quindi qui entra un gioco appunto il progetto Itaca che ha tantissimi anni di intervento, ad esempio. Sì, 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 il progetto Itaca è nato più di vent'anni fa appunto nel 99 e poi dal 2012 si è, diciamo, sviluppato in tutta Italia, sono nate per via di un'enorme domanda che c'è, perché è una richiesta di aiuto che è inascoltata e ci siamo ormai sviluppati in molte città italiane con i nostri progetti che sono molti e che coprono un po' vari bisogni della salute mentale. Allora, entriamo un po' nello specifico, Beatrice, di cosa fa proprio il progetto Itaca, di cosa fa soprattutto a Milano, perché ricordiamo, nata a Milano, poi mi dicevi, più di 12 città in Italia vi hanno seguito. So che avete sempre anche un filo diretto molto a contatto che con l'estero, da cui prendete suggestioni, da cui insomma ci si scambia progetti, diciamo. Però rimaniamo adesso un attimino su Milano, progetto Itaca, che cosa fa a Milano? Allora, a Milano abbiamo la sede dell'associazione, della prima associazione che è nata, e anche della fondazione, che è quella un po' che dà le linee guida, che dà la visione, la missione di Progetto Itaca e che aiuta e sostiene la comunicazione. Allora, abbiamo una linea d'ascolto a livello nazionale per informazione e anche per supporto di persone che chiamano, un corso di formazione per i volontari, perché noi appunto siamo un'associazione di volontari, per cui i volontari sono quelli che portano avanti molti dei nostri progetti. Abbiamo un progetto scuola, un progetto di informazioni, per esso le scuole medie e superiori, i licei, e questo fatto sempre nel territorio, per cui con uno psichiatra o con una persona professionale del territorio, assieme a Progetto Itaca e sempre assieme, su richiesta dalle scuole. Gruppi di autoaiuto, progetti di assistenza leggera a persone che vivono indipendenti nelle loro case, un'area ponte counseling per accompagnare le persone che non sanno ancora come dare priorità ai loro problemi, ai problemi dei loro familiari, e infine due progetti che abbiamo praticamente copiato, più che copiato, che abbiamo portato in Italia con dei convegni, con delle associazioni internazionali, uno che si chiama Club Itaca, Club House, e l'altro che è un progetto che aiuta di educazione per i familiari, e pari a pari, e adesso stiamo facendo un nuovissimo progetto che è molto interessante, che è di persone che hanno esperienza di problemi di disagio mentale, agli operatori, che a volte c'è uno scollamento tra i bisogni della persona. Si riesce proprio a integrare i bisogni, andare avanti cercando sempre più di inserire queste persone. Tutto questo, ci siamo dimenticati di dire, la cosa bella è che nasce su spinta, e non solo sulla spinta ma proprio con il lavoro, di tantissimi volontari, perché voi siete tutti quanti volontari, tranne poi nel momento in cui avete bisogno di un professionista che faccia un determinato tipo di lavoro, ma sennò siete tutti volontari, giusto? Sì, siamo tutti volontari e molti di questi corsi, direi quasi tutti, sono portati avanti dai volontari. Lo staff che abbiamo è uno staff tecnico per la comunicazione. Da che so che in trovo i primi c'è il corso di formazione per volontari. Assolutamente, così li prepariamo. Infatti, non è che chiunque può, però chi può infatti magari essere interessato, approcciarsi a voi, poi fate un corso di formazione, quindi servono delle caratteristiche specifiche per avvicinarsi all'oggetto ITAC? No, no, il corso è molto ben strutturato ormai negli anni, abbiamo anche l'appoggio di molti professionisti per le parti più tecniche, spieghiamo qual è la nostra visione, diamo un'infarinatura generale anche su quello che sono le malattie della salute mentale e c'è naturalmente un'intervista più che altro all'inizio per capire quali sono gli interessi, in quale aree poi queste persone diventeranno volontari di progetto ITAC. Volontari vuol dire, spesso e volentieri, anche dover reperire però soffondi, come no, come no. Fundraising che ormai si usa per non dire cercare denaro, ma si usa l'inglesismo, no? Assolutamente, no, no. Giustamente, il progetto ITAC si è inventato un bel progetto che vedremo questo weekend nelle piazze italiane, Beatrice, lascio raccontare allora a te che cosa vedremo appunto questa fine settimana. Vedremo un impegno grande, più che altro è fatto per raccogliere fondi ma anche per diffondere il nostro messaggio. Come ho detto siamo in tutta Italia, saremo in 70 piazze, in 19 città italiane a vendere del riso, qua abbiamo un pacchetto di riso, Damiano Carrara che sarà il nostro chef che ci accompagna, il nostro testimonial e assieme a questo pacchetto di riso vogliamo portare il nostro messaggio di informazione e questo è molto importante perché il 10 di ottobre è la giornata mondiale della salute mentale. Ieri è stata la giornata mondiale della salute mentale, infatti usate questo weekend appunto per portare in giro il vostro messaggio e anche poter appunto proporre questo pacchetto di riso che ad esempio Damiano Carrara durante la vostra conferenza stampa a cui siamo stati ha raccontato appunto che avrebbe poi creato una torta lui, quindi insomma già questo ci fa capire come il riso non significa solo risotto giallo a Milano ma può diventare anche tanto altro. Qualche importanza appunto scendere in piazza e parlare con la gente e farsi conoscere della gente? Ebbè una delle cose che è legata alla salute mentale è lo stigma, è la paura, è la vergogna, è il non parlarne, il non venire fuori, il non dire che queste sono malattie, sono malattie vere, oggettive e che sono malattie che si possono prevenire, che si possono curare, che si possono trattare e che bisogna affrontarle prima di tutto parlando e poi andando dai medici che devono occuparsi di queste malattie, cioè cercando aiuto. Noi siamo una prima apertura verso questo, tra l'altro volevo sottolineare che l'anno 2019 sarà l'anno della salute mentale perché è partito dalle grandi organizzazioni internazionali questo appello ed è stato seguito enormemente in giro per il mondo del benessere, dell'attenzione verso la parte soprattutto lavorativa, il benessere nei luoghi di lavoro. E' interessante anche questo nome, cioè l'anno della salute mentale, non l'anno della malattia mentale, proprio un approccio diverso anche al problema che viene da dire. Certo, certo, parlare di salute mentale come dicono alla OMS è, non c'è salute senza salute mentale, tutto inizia e tutto finisce lì, cioè cominciamo a occuparcene, cominciamo a parlarne, noi ci occupiamo di una parte di questo, però abbiamo dei progetti di inserimento lavorativo che si chiamano job station, che sono molto interessanti per persone che hanno avuto problemi gravi, per cui lavoriamo molto con le aziende, ci sono molte aziende molto sensibili al tema, però stesso dentro nell'azienda stessa troviamo problemi di salute mentale, come li trattano le aziende, come li affrontano, come li affrontano gli ospedali, le scuole, qualunque ente, no? Qualunque ente nella società che ha sotto di sé delle persone che hanno dei problemi, svariati problemi di salute, tra gli altri questi. Ricordiamo che uno dei grandi lavori che fa il progetto Itaca è anche quello del numero verde, no? Assolutamente. Una linea d'ascolto per chi e per cosa? La linea d'ascolto è aperta a chiunque voglia chiamare, è una linea d'ascolto su tutta Italia ed è un 800 274 274, dove si può trovare non solo informazione, ma anche sostegno, ma anche proprio ascolto. È molto importante per le persone che soffrono poter parlare anche a livello anonimo di sentire, parlarne, questo forse è proprio il primo passo per uscirne, il primo passo per poter tirare fuori il disagio che c'è dentro, che spesso uno pensa sia una cosa normale, una depressione, forza, mettici un po' di energia, alzati. No, è una malattia, rispettiamola anche quanto malattia e cerchiamo di aiutare queste persone a trovare aiuto. Quindi, a dire, una linea d'ascolto molto probabilmente utilizzata tanto anche dai familiari, spesso. Tanto dai familiari, tanto da persone. Che consiglio possiamo dare appunto ai familiari che spesso l'intero appunto magari si sentono soli, si trovano in difficoltà, non riuscire però ad avere un dialogo con magari il proprio caro che appunto viene a dire dai alzati, è che forse è la cosa peggiore da dire a una persona che sta male. È molto difficile non dirla, è molto difficile non dire mangia, è molto difficile. Ma sappiamo che sono quelle cose che dall'altra parte invece ne hai vista come una delle peggiori cose che gli si possono dire. Perché queste malattie sono ancora, ricadono ancora troppo sulle famiglie, perché sono nascoste, perché si ha vergogna, perché si ha molta paura. Allora facciamole uscire lo scoperto, venite, parlatene, noi siamo volontari, siamo familiari, io stessa sono familiare, siamo persone che soffrono a volte e per cui accogliamo, non siamo professionisti, veniteci a parlare e noi cercheremo di darvi delle possibilità, varie possibilità per affrontare queste difficoltà. Allora siamo quasi in chiusura, ti chiedo di ricordarci l'appuntamento di questo weekend nelle piazze italiane. L'appuntamento allora è in 70 piazze, saremo dislocati fuori dalle chiese la domenica, in giro in piazze un po' dove c'è movimento. Vi chiediamo di avvicinarvi, informarvi, ovviamente comprare il nostro riso, che peraltro è un riso buonissimo, Carnaroli, con cui si può fare dal risotto alla buonissima torta che suggerisce Damiano Carrara di Riz Ricotta e insomma cominciare da lì a informarvi, a prendere magari il nostro volantino, il nostro materiale e cominciare a capire che cosa si può fare per i nostri cari e che cosa si può fare per questa associazione. Ecco, come si può fare a superare quella prima barriera di paura o di vergogna? Tu hai parlato di vergogna più di una volta oggi. Eh sì, vergogna perché la gente pensa, soprattutto non so, i familiari a colpe, a cose che non ha fatto bene. Per dei genitori è molto difficile ammettere, capire, avvicinarsi a dei figli o dei fratelli che hanno questi problemi, è molto difficile convivere, allora non è, non bisogna avere una, nessuna vergogna, nessuna paura, bisogna parlarne, parlarne e noi vi aiutiamo a fare questa, a fare il primo piccolo passo per poi aiutare di più, perché più uno sta bene più aiuta anche gli altri e più aiuta anche i suoi familiari. Abbiamo un bellissimo corso di familiari che si chiama Family to Family, che hanno seguito centinaia di persone in giro per il mondo, che è un corso tenuto da familiari a familiari, per cui non c'è bisogno di spiegare cosa vuol dire avere una persona così in casa, è un corso educativo, è un corso che ti fa crescere, che ti fa imparare delle cose per gestire meglio il tuo stress, la tua difficoltà ad avere questa persona, per cui aiutare anche la persona che hai in famiglia. Ricordaci anche, Beatrice, le coordinate per trovare appunto il progetto Itaca dove possiamo sui social, su internet, i numeri telefoni, le collegate a Milano dove possiamo trovare e a Milano siamo in via Volta numero 7A, comunque siamo a progetto Itaca.org e siamo su tutti i social con sotto progetto Itaca, ci trovate famiglie, vi ripeto il numero verde. Sì, vediamolo anche, in cambio Cristina ti chiedo di mettere in grafica il numero verde, che insomma un ascolto sempre in linea, eccolo qua, l'800 274 274, poi c'è anche comunque per le chiamate da cellulare, o la linea, l'indirizzo mail a cui appunto poter chiedere un consulto o semplicemente appunto qualche informazione in più, per superare la rapidamente. Assolutamente, scriveteci, telefonateci e noi prenderemo un appuntamento e vedremo in che cosa vi possiamo aiutare. è un primo passo ed è molto importante. Grazie mille, davvero, ricordiamo che questo weekend in più di 70 piazze in 19 città, compresa quindi e ovviamente anche Milano, potete trovare Progetto Itaca e il Riso, ecco qua appunto l'iniziativa di raccolta fondi a favore di Fondazione Progetto Itaca, sabato e domenica nelle maggiori piazze italiane, 70 piazze, 19 città d'Italia, come dicevo Milano ovviamente compresa, avvicinatevi, chiedete informazioni, sanno, avete visto, vi spiegano tutto quello che c'è da sapere, ci saranno i nostri volontari pronti a rispondere, tanti volontari che giornalmente si impegnano appunto con un grande lavoro, con un grande sforzo, immagino che sia anche uno sforzo davvero impegnativo anche da parte di voi che magari più anni che siete dentro dell'associazione, riuscire a gestire tutti questi volontari, a fare... Sì, però, cresciamo e diamo, secondo me è un importantissimo servizio alla comunità e questo ci dà un bel ritorno. Beh, questo sicuramente sì, Beatrice, ma poi a Milano sono abituati ad avere davvero grandi realtà che aiutano molto questa città e anzi voi poi giustamente vi siete anche ingranditi, siete usciti dai nostri confini giustamente perché, insomma, il progetto è un progetto valido e quello della salute mentale è una problematica che comunque, insomma, è sempre più ampia e come dicevi appunto i numeri sono sempre di più, si riesce a intervenire proprio a fortuna sempre prima, mi dicevi, che insomma si riesce a recuperare persone che sennò diventerebbero, diciamo, croniche, invece così si può ritornare a una vita sociale e lavorativa soddisfacente, diciamo. Perfetto, allora grazie mille a Beatrice Begamasco, associazione del progetto Itaca, grazie mille davvero. Grazie a voi, grazie a voi. Buon weekend di lavoro. Di lavoro, senza altro. Saremo in giro per le piazze. Alla prossima. Grazie mille, tornate appena avrete altre iniziative da raccontarci, noi siamo qui ben contenti di darvi spazio. Molte grazie, arrivederci a tutti. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, vi ricordo questo weekend il progetto Itaca nelle maggiori piazze di Milano, troverete il riso con cui potete fare quello che volete oppure seguire l'esempio di Damiano Carrara, una torta di riso e ricotta, perché no, che insomma il riso a Milano ormai non è più solo risotto giallo, quindi abbiamo anche scoperto questa cosa. Io vi ringrazio davvero tantissimo per averci seguito, vi do appuntamento a domani sempre qui in diretta alle 12.30 con Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci.